Utilizzava il garage sotto casa come deposito laboratorio di droga. Lo hanno scoperto dopo un'accurata attività d'indagine i carabinieri a San Giovanni la Punta, dove finito in manete in flagranza il 43enne Fabrizio Trovato. L'uomo si era organizzato per nascondere, trasformare e dosare gli stupefacenti da piazzare al dettaglio. I militari hanno infatti rinvenuto e sequestrato 4,2 kg di marijuana, una decina di grammi di hashish, quattro bilance elettroniche di precisione e diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi. La droga e il materiale sono stati sequestrati, mentre l'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.